A Ur, insediamento mesopotamico vecchio di 6.000 anni, così reagiscono i ministri di culto cristiani e musulmani alla preghiera ecumenica tra Papa Francesco e l'Ayatollah Shita Ali Al-Sistani. Con questo incontro dovremmo imparare ad accettarci l'un l'altro e a battere i muri. Questi muri di cemento non possono dividere credenti, esseri umani e paesi, dice il prete cristiano Afram. Dice invece il musulmano sheiko Abdul Ibrahim Al-Ansari, scorgiamo la necessità di un'apertura tra cristianità e islam per un'affinità di pensiero che avvicini i popoli affinché essi si comprendano. A Najaf, città santa sciita, batte il cuore religioso e anche politico dell'Iraq. È all'ombra della cupola della moschea di Ali infatti che si gioca la stabilità di una buona parte della Mesopotamia. L'incontro tra Papa Francesco e l'Ayatollah Shita Ali Al-Sistani invia un messaggio di moderazione e vuole dimostrare che non c'è differenza tra cristianità e islam, dice un abitante della città santa di Najaf. Le comunità cristiane d'Oriente sono state vittime di persecuzioni sanguinose dalla caduta di Saddam Hussein fino all'arrivo del califato dell'Isis. Grazie. Grazie. Grazie.